Villetta d'angolo di recente costruzione con VMC, pannello solare, pannello fotovoltaico, aria condizionata, allarme, il tutto a pochi passi dal centro di Faenza? Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questa villetta d'angolo in vendita. Grazie a tutti. Siamo in Borgo, nella zona di Via Boschi e qui si trova questa villetta terra-cielo ad angolo con ampio giardino, soggiorno, cucina, bagno finestrato al piano terra, due camere da letto, secondo bagno sempre finestrato al piano primo, ampia taverna e garage grande al piano interrato. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!